amici di youtube ben ritrovati sul canale riparo fare te oggi effettueremo una riparazione molto semplice più che riparazione si in questo caso andremo a sostituire una batteria di una lampada di emergenza a marchio ats la batteria che porta la lampada emergenza è una batteria da 3,6 volt 700 mila per siccome in casa non ho questa tipologia di batteria andrò a sostituirla con una batteria presa da un telefono fisso che ha le stesse caratteristiche di questa batteria qua andremo adesso a tagliare i fili posizionati su questa batteria per mettere il connettore quello che porta in dotazione la lampada ok prendiamo la sua batteria andiamo a tagliare il connettore purtroppo queste batterie hanno una durata media intorno ai due anni di vita quindi se in casa avete qualcosa del genere potete anche utilizzare delle batterie ricaricabili se la somma vi dà il voltaggio giusto sui 3,6V potete tranquillamente mettere delle triple A collegate insieme tutte e tre ora andremo a stagnare il nero, i due fili nero e rosso questi due li unisco perché sul connettore che porta di fabbrica abbiamo una sola massa abbiamo un solo negativo e un positivo quindi andiamo a stagnare prima il rosso e poi il nero e questi due li andiamo a collegare sui rispettivi colori quindi nero e rosso operazione molto semplice alla portata di tutti sempre per il fai da te grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci qua abbiamo sigillato il tutto con della guaina termorestringente ora andremo a prendere la nostra lampada di emergenza e andremo ad effettuare questa piccola modifica inserendo la batteria nuova ecco qui ora la lampada dovrà stare sotto sotto carica per un po' di ore questo è tutto questo è tutto amici vi consiglio di lasciare un like iscrivetevi al canale condividete il canale e ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti